Anche se dalla periferia, questa volta si sono sentiti al centro. Residenti di un quartiere non sempre facile, con questioni ancora da risolvere e una necessità, quella di non sentirsi cittadini di serie B. Il loro appello è quello delle altre realtà che operano sul territorio e arrivato sino alla regione, sino al presidente Michele Emiliano che ieri pomeriggio è stato ospite di un incontro presso l'istituto comprensivo Imbriani Salvemini di Andria, nel cuore del rione di San Valentino. Una visita di contatto più che istituzionale, quel contatto che il governatore pugliese non vuole perdere con la gente che vive nei territori tra piccoli e grandi problemi. È una vecchia abitudine che avevo quando facevo il magistrato, che ovviamente un magistrato non è tenuto ad ascoltare i cittadini, però andando nelle scuole, nelle parrocchie avevo il polso della situazione. Non ne parliamo poi quando ho fatto il sindaco e adesso da presidente la regione è un poco più complicato perché le città sono 258, gli abitanti sono 4 milioni e 200 mila, però con l'aiuto di chi vive continuamente tutta la propria missione, tutta la propria vita tra la gente, approfondire e collegarsi alla vita normale di tutti i giorni mi pare non solo un gesto di igiene mentale, perché in questo modo chi svolge funzioni come le mie rimane in contatto con le persone, ma soprattutto si possono cogliere molti suggerimenti e capire dove le cose non funzionano. Le parrocchie, le scuole sono dei luoghi dove la gente si apre più facilmente, conosce i parroci, conosce gli insegnanti, conosce coloro che gestiscono le società e le associazioni di volontariato, insomma sono tutte cose molto opportune. Poi io volentieri sono qua. Un impegno rispettato, quello di Michele Emiliano, che dopo circa un mese dall'ultima visita è tornato ad Andria per tenere fede ad una promessa fatta a Don Giuseppe Zingaro, parroco della chiesa di San Riccardo. Lui è venuto ad Andria per la questione di Don Riccardo a Gresti e lì Don Giuseppe ha fatto un bellissimo intervento con toni pacati ma fermi e lui ha promesso a Don Giuseppe di voler venire a visitare questo quartiere, questa parrocchia, questa comunità e io in effetti dopo glielo ho soltanto ricordato e lui ha voluto esserci e questo è un bel segno per un quartiere che molto spesso è abbandonato se stesso anche dalla società civile, dalla comunità andriese. Un segnale positivo che risponde alla necessità di una stretta e continua sinergia tra cittadini e istituzioni, soprattutto nelle realtà più difficili per non lasciare spazio alla rassegnazione. Il quartiere, le istituzioni devono camminare insieme, l'attenzione alla persona umana è al primo posto del nostro lavorare insieme. I abitanti del quartiere abitano, sono chiamati ad abitare, sono chiamati a rendere anche bello il quartiere, anche se c'è la presenza di una grande rassegnazione che purtroppo è una parola non bella, che non deve essere parte dei nostri vocabolari, del nostro lavoro. Le istituzioni devono calpestare questo territorio ed è importante, qualsiasi istituzione, ognuno con il suo ruolo, con le sue responsabilità, perché solo lavorando in rete ma con delle alleanze ecodurature possiamo veramente creare una realtà bella. Grazie.